ciao a tutti ragazzi ben ritornati in questo nuovissimo video oggi facciamo un video di roblox ogni momento che io con per esempio quello che faceva sempre il mio amico non è il mio amico infatti su discordo bloccato quando l'ho bloccato non lo sblocco lo sblocato non penso di andare su youtube con lui non penso che ritornerà perché basta non ce lo faccio ciao ragazzi